Il mercato dei trattori in Italia si chiude a settembre attorno alle 18.300 unità, con un mercato in rialzo rispetto all'anno scorso, un rialzo più o meno del 3%. Ovviamente questi numeri vanno analizzati attentamente. Parliamo del segmento della media potenza, alta potenza, in sofferenza quest'anno. Diverso invece il discorso sul segmento degli speciali, cui vino e frutta, dove abbiamo visto negli ultimi due anni un mercato che aumenta, un mercato che tocca e supera le 4.000 unità. Vedendo un po' le combine, il mercato si chiude attorno alle 360 unità, in crescita del 9% rispetto all'anno scorso. Un altro mercato che esprime dei numeri in calo è quello delle big bailer, un mercato rialzo è quello delle vendemiatrici invece. Nel 2017 ci aspettiamo sostanzialmente dei numeri in pareggio, per cui rispetto a quest'anno, anche se sappiamo che potrebbero esserci delle buone opportunità, grazie agli sblocchi di PSR in molte regioni. Noi ci siamo presentati a lei, ma con lo stand più grande di sempre, con tantissime novità, stand ricco di contenuti, nuovi modelli, modelli come il nuovo T5. E poi, grande novità, ci presentiamo con la nuova gamma di attrezzature, frutto dell'acquisizione del gruppo Conskild, acquisizione che la nostra azienda ha annunciato qualche giorno fa. Noi onestamente abbiamo assistito giorno dopo giorno all'aumento dell'affluenza, da cui abbiamo messo tantissimo entusiasmo, le prospettive sono buone, le emozioni anche, vediamo i prossimi mesi cosa ci dirà questa fiera.